Vai. Buongiorno, siamo in Sicilia, a Erice. Ci troviamo nei pressi del monastero di San Salvatore. Basta fare pausa per leggere ciò che inquadro, eh? Specie e particolezza. Peccato questa nebbia, ma siamo in montagna perché qua si quota mille, giusto? A Erice in Sicilia, in montagna in Sicilia. Adesso andiamo a sentire i canti Benedettini. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. La monaca benedettina di San Salvatore. Dopo Nicoletta fai pausa e leggi tutto, io non posso stare a inquadrare 5 minuti, ok? Fai pausa e leggi, Nicoletta e tutte le suore di clausura di Sanseverino. Ciao belle. Questo è fatto per voi questo video, ok? Per voi, non per me. C'è questo attrezzo ma non so cos'è. Ce lo dirà Nicoletta. Grazie. 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 Grazie.